Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Iniziamo oggi una nuova serie di catechesi sul tema della speranza cristiana. E' molto importante, perché la speranza non delude. L'ottimismo delude, la speranza no. Chiaro? E ne abbiamo tanto bisogno in questi tempi che appaiono oscuri, in cui a volte ci sentiamo smarritti davanti al male e alla violenza che ci circondano, davanti al dolore di tanti nostri fratelli. Ci vuole la speranza. Ci sentiamo smarriti, anche un po' scoraggiati, perché ci troviamo impotenti e ci sembra che questo buio non debba mai finire. Ma non bisogna lasciare che la speranza ci abbandoni, perché Dio con il suo amore cammina con noi. Io spero, perché Dio è accanto a me. E questo possiamo dirlo tutti noi, ognuno di noi. Può dire io spero, ho speranza, perché Dio cammina con me. Cammina e mi porta dalla mano. Mi porta per mano. Dio non ci lascia soli. Il Signore Gesù ha vinto il male e ci ha aperto la strada della vita. E allora, in particolare, in questo tempo di avvento, che è il tempo della Tessa, in cui ci prepariamo a cogliere ancora una volta il mistero consolante dell'Incarnazione e la luce di Natale, è importante riflettere sulla speranza. Lasciamoci insegnare dal Signore cosa vuol dire sperare. Ascoltiamo, quindi, le parole della Sacra Scrittura, iniziando con il profeta Isaia, il grande profeta dell'Avento, il grande messaggero della speranza. Nella seconda parte del suo libro, Isaia si rivolge al popolo con un annuncio di consolazione. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gritate che la sua tribulazione è compiuta. La sua colpa è scontata. Una voce grida, nel deserto preparate la via al Signore e spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni cole siano abbassati. Il terreno accidentato si trasforma in piano e quello scossesso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Questo è quello che dice il profeta Isaia. Dio Padre consola, suscitando consolatori, a cui chiede di rincuorare il popolo, i suoi figli, annunciando che è finita la tribulazione, è finito il dolore e il peccato è stato perdonato. E' questo che guarisce il cuore afflitto e spaventato. Perciò il profeta chiede di preparare la via al Signore, apprendosi ai suoi doni e alla sua salvezza. La consolazione per il popolo comincia con la possibilità di camminare sulla via di Dio, una via nuova, raddrizzata e percorribile, una vita da aprontare nel deserto, così da poterlo attraversare e ritornare in patria. Perché il popolo a cui il profeta si rivolge stava vivendo in quel tempo la tragedia dell'esilio a Babilonia. E adesso invece si sente dire che potrà tornare nella sua terra attraverso una strada resa comoda e larga, senza valli e montagne che rendono faticoso il cammino, una strada spianata nel deserto. Preparare quella strada vuol dire dunque preparare un cammino di salvezza, un cammino di liberazione da ogni istacolo e inciampo. L'esilio del popolo di Israele era stato un momento drammatico nella storia, quando il popolo aveva perso tutto. Il popolo aveva perso la patria, la libertà, la dignità, e anche la fiducia in Dio. Si sentiva abbandonato e senza speranza. Invece, ecco l'appello del profeta che riapre il cuore alla fede. Il deserto è un luogo in cui è difficile vivere, ma proprio lì ora si potrà camminare per tornare, non solo in patria, ma tornare a Dio, e tornare a sperare, e tornare a sorridere. Quando noi siamo nel buio, nelle difficoltà, non viene il sorriso. Si è proprio la speranza che ci insegna a sorridere in quella strada per trovare Dio. Una delle cose, delle prime cose che accadono alle persone che si staccano da Dio è che sono persone senza sorriso. Forse sono capaci di fare una grande risata, ne fanno una dietro l'altra, una battuta e una risata, ma il sorriso manca. Il sorriso soltanto lo dà la speranza. Avete capito questo? Il sorriso della speranza di trovare Dio. La vita è spesso un deserto. È difficile camminare dentro della vita, ma se ci affidiamo a Dio può diventare bella e larga come un'autostrada. Basta non perdere mai la speranza. Basta continuare a credere, sempre, nonostante tutto. Quando noi ci troviamo davanti a un bambino, forse avremo problemi, tanti problemi lì, tante difficoltà, ma quando ci troviamo davanti a un bambino ci viene da dentro il sorriso. La semplicità, perché ci troviamo davanti alla speranza. Un bambino è una speranza. E così dobbiamo vedere nella vita, in questo cammino, la speranza di trovare Dio, Dio che si è fatto bambino per noi. E ci farà sorridere, ci darà tutto. Proprio queste parole di Isaia vengono poi usate da Giovanni il Battista nella sua predicazione che invitava alla conversione. Diceva così, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Una voce che grida dove sembra che nessuno possa ascoltare, ma chi può ascoltare nel deserto? I luppi. E che grida nello smarrimento dovuto alla crisi di fede. Noi non possiamo negare che il mondo di oggi è in crisi di fede. Sì, poi diciamo, sì, io credo in Dio, io sono cristiano, io sono in quella religione, ma la tua vita è ben lontana a essere cristiano, è ben lontana da Dio. La religione, la fede, è caduta in una parola, io credo, sì, ma no, qui si tratta di tornare a Dio, convertire il cuore a Dio e andare per questa strada, per trovarlo. Lui ci aspetta. Questa è la predicazione di Giovanni Battista. Preparare, preparare l'incontro con questo bambino che ci ridonerà il sorriso. Gli israeliti, quando il Battista annuncia la venuta di Gesù, è come se fossero ancora in esilio, perché sono sotto la dominazione romana, che li rende stranieri nella loro stessa patria, governanti da occupanti potenti che decidono delle loro vite. Ma la vera storia non è quella fatta dai potenti, bensì quella fatta da Dio insieme con i Suoi piccoli. La vera storia, quella che rimarrà nell'eternità, è quella che scrive Dio con i Suoi piccoli. Dio con Maria, Dio con Gesù, Dio con Giuseppe, Dio con i piccoli. Quei piccoli e semplici che troviamo intorno a Gesù che nasce, Saccaria e Elisabetta, anziani e segnati dalla sterilità, Maria, giovane ragazza, vergine, promessa sposa a Giuseppe, i pastori che erano disprezzati e non contavano nulla, sono i piccoli resti grandi dalla loro fede, i piccoli che sanno continuare a sperare. La speranza è una vertù dei piccoli. I grandi, i soddisfatti, non conoscono la speranza, non sanno cosa sia. Sono loro, i piccoli, con Dio, con Gesù, che trasformano il deserto dell'esilio, della solitudine disperata, della sofferenza, in una strada piana, sul cui camminare per andare incontro alla gloria del Signore. E arriviamo al dunque. Lasciamoci insegnare la speranza. Lasciamoci insegnare la speranza. Attendiamo fiduciosi la venuta del Signore. e qualunque sia il deserto delle nostre vite, ognuno sa in quale deserto cammina, qualunque sia il deserto delle nostre vite, diventerà un giardino fiorito. La speranza non delude. Lo diciamo travolta. La speranza la speranza la speranza grazie. 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 Grazie.